Papa Paolo VI, proclamato beato da Papa Francesco il 19 ottobre 2014, potrebbe in breve tempo diventare santo. Secondo quanto riporta il settimanale diocesano di Brescia, è stato infatti riconosciuto dalla Commissione Medica e dalla Commissione Teologica Vaticane il miracolo necessario alla canonizzazione di Giovanni Battista Montini. È la nascita inspiegabile per i medici di Amanda, una bimba rimasta per tre mesi, secondo fonti di agenzia, senza liquido amniotico nel grembo della madre. La piccola è venuta alla luce il giorno di Natale del 2014, dopo sole 26 settimane di gestazione e pesava solo 865 grammi. In precedenza, dopo 13 settimane di gravidanza, alla madre si era rotta la placenta e a quel punto i medici le avevano consigliato di interrompere la gravidanza, non avendo la bimba alcuna speranza di sopravvivere. La donna però, su consiglio di un'amica, si era recata al Santuario delle Grazie a Brescia a pregare Paolo VI, la cui beatificazione, lo ricordiamo, è dovuta al riconoscimento di un'altra miracolosa nascita, quella nel 2001, di un bimbo dopo una complessa gravidanza. Nonostante il parere dei medici, la madre di Amanda ha portato avanti la gravidanza fino alla nascita della bimba, in una condizione ritenuta dai sanitari inspiegabile. Ottenuto ora il riconoscimento delle commissioni medico e teologica, la causa di canonizzazione del beato Giovanni Battista Montini si avvicina alla meta.